Cari studenti e cari appassionati di filosofia, attraverso questa serie di video a scopo prettamente didattico voglio offrirvi la possibilità di usare in maniera nuova interattiva alcune pagine scelte delle opere più importanti, dei filosofi, dagli origini fino ai nostri giorni in un mondo virtuale come il nostro dove l'interattività e soprattutto per voi giovani è diventata come il pane quotidiano mi auguro che questa mia scelta possa permettervi di assaporare e scoprire ciò che a volte poteva risultarvi pesante da prendere in modo tradizionale. Non mi resta che augurarvi buon ascolto e buon viaggio insieme a me vi aspetto sul mio canale youtube. Grazie, a presto